Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, siamo nella sede di Talsano Taranto. Allora Rizzo, intanto commentiamo l'incontro che c'è stato a Roma con la parte aziendale di Acciaierie d'Italia. Pare che non vi fosse nessun rappresentante del governo, un incontro abbastanza interlocutorio stando alle vostre dichiarazioni. Sì, secondo me è stato un incontro che serviva poi, un incontro di preparazione, un incontro ministeriale. Loro hanno sviscerato alcuni dati, c'erano i vertici di Acciaierie d'Italia, da parte di Arcelor Mittal, o almeno quelli che gestiscono lo stabilimento, perché pure qua c'è con la notizia che poi chiederemo conferma al Ministero durante il primo incontro ministeriale, se è vero di questa notizia che nella holding quindi c'è il presidente Bernabé e nella società che gestisce invece gli stabilimenti ci siano solo uomini ex Arcelor Mittal, capeggiati dalla dottoressa Morselli, perché questo è quello che gira almeno da alcune fonti giornalistiche. Comunque, loro hanno sviscerato i dati produttivi e il numero dei cassi integrati per il 2021, hanno fatto un prospetto, ci hanno detto che chiuderemo l'anno intorno ai 4 milioni e 200 mila tonnellate, hanno detto che l'ultimo trimestre sarà a marcia Pina con tre alti forni in marcia e due Acciaierie, il 2022 invece l'obiettivo è 6 milioni di tonnellate con Acciaieria 1 all'80% e Acciaieria 2 al 100%, quindi una marcia stabile con una produzione più alta di almeno 2 milioni di tonnellate. C'è l'incongruenza sui numeri che io ho fatto notare, ho detto non puoi avere 2.600-2.800 cassi integrati con 4 milioni di produzione, aumenta la produzione a 6 milioni, i cassi integrati sono sempre gli stessi, non diminuiscono. E lì, come dire, è iniziata una sorta di dibattito. Lei ha anticipato un po' quello che noi stiamo dicendo come USB da tempo, che il progetto sul forno elettrico è un progetto che deve essere ancora calibrato. Pare che, tra l'altro, alla presentazione del piano industriale, stiano ancora lavorando perché, tra l'altro, debbano ancora decidere che tipo di forno elettrico... Quindi un piano industriale abbastanza fumoso, avvolto nella nebbia. ...impiantare a Taranto. Detto questo, però, ha precisato che questo è un progetto, quindi non è che domani mattina avremo il forno elettrico. Quindi ci vorrà qualche anno di tempo ancora, questo avvalora la tesi nostra, che in realtà poi alla fine stiamo presentando, e presentaranno probabilmente un progetto in cui si dirà vogliamo fare questo, però da qui, come dire, a farlo poi ci passeranno diversi anni. Secondo me il fatto che il numero dei gas integrati corrisponda nel 2022 con una produzione di 6 milioni di tonnellate, corrisponde esattamente a quello del 2021, perché chiaramente loro non si muoveranno da quello che hanno identificato come il numero da mettere sul tavolo come eventuali esuberi nel prossimo accordo che chiederanno di fare con il sindacato. Quindi questa è la logica. Poi, dico così, diciamo che dal punto di vista della fattibilità del progetto noi abbiamo diversi dubbi, chiaramente però aspettiamo che ci presenti questo progetto, prendiamo atto che siamo ancora distanti dal capire qual è la strada che bisogna seguire e tra l'altro, come dire, trovano riscontro le nostre parole più volte dette al Ministero in maniera aperta, anche di fronte a Domenica Alcurti, in cui abbiamo detto siete contraddittori quando fate le dichiarazioni, perché la Morselli dice stiamo ancora decidendo qual è il tipo di forno che dobbiamo fare. Quindi anche questo, come dire, avvalora un po' quello che stiamo sostenendo da due anni. In tutto questo il paradosso però che poi alla fine ne pagano conseguenze le persone. C'è un altro aspetto, sembra che nel nuovo progetto non vi sia traccia dei lavoratori ex Silvina S. E anche questo, come stiamo sostenendo noi, ce l'ha confermato, lei ha usato una frase in un passaggio dicendo nel nuovo contratto col governo che i lavoratori sono stati destinati ad altro. Quindi ci ha fatto intendere che sono usciti fuori dal perimetro che noi avevamo considerato il 6 settembre 2018 in quell'accordo. Poi ha detto, chiaramente voi avete un accordo che per voi è valido, noi abbiamo un contratto che per noi è valido, che quei lavoratori li escludono e poi alla fine se non se ne esce dalla discussione ognuno poi tirerà le somme. Però questa la conferma sostanzialmente che quei lavoratori non rientrano, al contrario di quello che vanno dicendo altri, purtroppo non rientrano all'interno del perimetro dell'eventuale accordo che quelli che si stanno chiedendo a Cilvina d'Italia. Voi quindi insistete per questo discorso dei lavoratori ex Silvina S. se giustamente per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità che avrebbero una funzione quantomeno integrativa, non sostitutiva, integrativa del reddito e insistete anche ovviamente sul discorso dell'accordo di programma. No, noi insistiamo soprattutto sulla questione dell'accordo di programma per tutti i lavoratori, compresi il Bena S, che vivono già quella condizione. perché se si vuole ragionare, partendo dalla tenuta sociale che non vorremmo perdere se si fa un nuovo accordo, tu o ci metti le risorse sul tavolo, non è un caso, io l'ho già detto in una tua trasmissione, noi al Ministero ci siamo subito dichiarati. La trattativa ce la facciamo, ma a patte e condizioni che sul tavolo vengono messe le risorse per dare sostegno a questi lavoratori, a quelli che stanno in AS, a quelli che verranno dichiarati esubri, poi siamo disponibili a ragionare. Però ci vogliono le misure dei lavoratori. Le proposte nostre sono chiare, semplici, che sono LPU, che ti permettono di integrare il reddito fino a quando non mi richiamerai al lavoro, quindi se un anno mi tieni fuori, per un anno mi darai l'opportunità di fare l'LPU, se mi tieni 15 anni, me li fa fare 15 anni, perché io non posso patire anche a livello economico di errori o di scelte che hanno fatto loro. Poi abbiamo chiesto il lavoro usurante, l'introduzione della cirurgia nel lavoro usurante per dare un riconoscimento, quindi per avvicinarci la pensione. La questione degli incentivi all'esito, che secondo noi è un fatto scontato, incentivi però decenti, per mettere nelle condizioni chi alla fine vuole andare via, perché magari ha altre opportunità, di andare via con un grossolo di soldi che li possa consentire poi di mettersi in carreggiata. Queste sono le proposte nostre che valgono per tutti i dipendenti. Chiaramente la questione dell'EPIU è in fase avanzata per i dipendenti del Baina S all'interno dell'accordo di programma, perché quella condizione i dipendenti del Baina S oggi già la vivono. Ma a prescindere, stiamo tentando di fare quello che si è fatto a Genova nel 2015, quando ci fu l'accordo nel 2005, quando ci fu l'accordo a seguito della chiusura dell'Alto Forno, se ricordi bene, con la promessa del Forno elettrico che poi non è stato mai realizzato. Quindi la garanzia nostra qual è? Che facendo l'accordo di programma, se tu non realizzi il progetto, quantomeno io con gli LPU sono coperto fino a quando vado in pensione, perché ho quell'opportunità fattiva e quindi posso guadagnare lo stipendio per l'intero. Ecco Rizzo, in questi ultimi giorni... Giusto per essere chiaro, perché qui il paradosso poi alla fine che si è andato raccontando che noi stavamo proponendo favole, in realtà la cosa che adesso viene proposta da qualcun altro è quella di continuare a far vivere i lavoratori in cassa integrazione con 800 euro al mese, perché tra l'altro la Morselli, pure una cosa ha chiarito, integrazione non se ne parla dell'integrazione salariale per coloro che stanno dentro. Invece tu sai che su Ilva e in AS, anzi io stamattina mi sono sentito anche con alcuni parlamentari, tra l'altro che mi hanno anticipato che stanno lavorando a delle bozze che vogliono inserire all'interno del decreto bilancio per le tre proposte che abbiamo fatto, che secondo me sono fattibili. La questione dell'integrazione salariale triennale, quindi senza stare ogni volta a scadenza dell'anno a fare tutti questi casini per ottenere quelle 150 euro di più al mese che ai lavoratori di Penaeste servono. E la questione del TFR, quello antifallimento e quello successivo, perché secondo noi è assolutamente assurdo che i lavoratori non possono prelevare il TFR, basterebbe modificare leggermente una norma perché poi alla fine, l'hanno ammesso pure alcuni parlamentari e senatori con cui abbiamo parlato, sono soldi che comunque alla fine pagheranno a prescindere sempre il fondo di garanzia dell'Inps e quindi chiediamo solamente di anticipare un po' i tempi per mettere nelle condizioni con i lavoratori di poter usufruire del proprio TFR, quindi di dare la stessa possibilità a quei lavoratori dei lavoratori che sono passati in Assalormittalo e che sono andati via, quindi questo abbiamo chiesto. Rizzo, negli ultimi giorni l'abbiamo vista molto itinerante girare l'Italia per ovviamente impegni sindacali, ci sarà un prossimo appuntamento a Genova? Sono mesi che sto girando, mi ho fatto un'assemblea a Conigi perché anche lì USB siamo riusciti piano piano a entrare in uno stabilimento che storicamente è stato sempre a Roccaforte della FIOM, abbiamo fatto qualche scritto, io ho fatto un'assemblea settimana scorsa al di fuori dello stabilimento con un po' di persone, è stato tra l'altro piacevole, tra l'altro c'è stata anche la possibilità di scambiarci un po' le diverse vedute, che poi in realtà è emerso dall'assemblea che i problemi che abbiamo a Taranto sono praticamente identici a quelli di la Conigi, fatto salvo la questione legata all'impianto a caldo che noi a Taranto ce li abbiamo, lì non ce li hanno, però diciamo che è emerso da quell'assemblea che i comportamenti di Asselo, di Aceria d'Italia sono identici, anche lì c'è carenza di mordenzione e quant'altro, a Genova ci li vado lunedì, però di Genova non vi dico niente, chiaramente ci stiamo andando per la questione Aceria d'Italia, però anche lì stiamo in contatto con alcuni lavoratori e probabilmente qualche scritto l'abbiamo fatto pure là, stiamo facendo quello che dovremmo fare, che avevamo previsto dall'inizio, quello di allargare il fronte e di entrare in tutte le aziende del gruppo oggi Aceria d'Italia e Exilva, quindi questi sono gli obiettivi. Non tralasciando tra l'altro tutta la questione dell'appalto che per noi è importantissima e anche qua in quell'incontro abbiamo posto un problema rispetto al dumping contrattuale che c'è e vive a vege dall'interno dell'appalto con il contratto multiservizi che ha sostituito praticamente tanti contratti all'interno della fabbrica, abbiamo gravissima anomalia, anche lì noi stiamo chiedendo con forza che ci sia o un contratto unico dell'appalto con una base economica che sia uguale per tutti, che è quella del contratto metameccanico che secondo noi dovrebbe essere preso a riferimento, oppure l'abolizione, quindi l'impossibilità di applicare quel contratto all'interno della fabbrica, pure qua. Quel contratto nasce all'inizio degli anni 2000 da un accordo fatto da Confindustria CGL Cisle Will, viene portato all'interno della fabbrica con il primo accordo che fa Semat nel 2008 se non sbaglio, perché dichiara e sopra alcuni lavoratori che vengono affidati poi alle pulizie e CGL Cisle Will quindi si accordano per inserire questo contratto. Da quel momento è stato un contratto che ha preso piede. Il paradosso di quel contratto è quale? Pochi diritti, l'unico diritto tangibile è l'articolo 4 e il fatto che comunque tu nel cambio d'appalto sei garantito, ma dal punto di vista economico è fortemente penalizzante perché comunque tu rispetto a un lavoratore che fa la tua stessa attività con un contratto metameccanico perdi 300-400 euro di meno al mese. Quindi questi sono gli obiettivi che noi abbiamo, li sosteniamo, li portiamo avanti partendo dal presupposto che i fatti fino ad oggi stanno dando ragione e anche qua lo dico al primo incontro ministeriale che come ha detto la Morseri dovrebbe avvenire tra il 15 e il 30 di ottobre, noi saremo lì a fare le nostre rivendicazioni e a chiarire una volta per tutte che la discussione ce la facciamo, ma stavolta la discussione si fa a 360 gradi, partendo dalle esigenze dei lavoratori, tutti. Chiudo dicendo che noi abbiamo l'appuntamento dell'11 ottobre a Roma, lo sciopero di USB, noi abbiamo concordato con i compagni di All'Italia di fare una manifestazione sotto il Mise insieme perché quello che sta capitando all'Italia è vergognoso e noi pensiamo che possa essere il preludio di quello che capiterà all'Ilva. Le situazioni sono abbastanza simili, anche lì lo Stato è in società, quindi c'è una società come dire, partecipazione pubblica e lì addirittura nella proposta che il nuovo amministratore delegato fa ai sindacati è contenuto uno dei 10.000 lavoratori attualmente in capo dall'Italia ne assumono 2.500 ma non obbligatoriamente di quel vaccino, c'è un primo problema sia sul numero che sul fatto che non c'è neanche il passaggio, quindi stanno avviando una sorta di concorso, tu vuoi fare la domanda, eventualmente io poi vedo se ti posso assumere e quindi c'è un primo problema. Il secondo problema è che stanno proponendo di uscire fuori dal contratto nazionale, proponendo praticamente un contratto come dire atipico, da quanto mi dicono e da due conti che già hanno fatto un contratto economicamente molto penalizzante. Se passa questo all'Italia la paura nostra è che si possa applicare anche all'Ilva, ecco perché noi giorno 11 saremo con tantissimi lavoratori di Aceri d'Italia, di Ilva in AS e dell'appalto Ilva a manifestare perché il governo si deve assumere la responsabilità e questo governo ha l'obbligo di dare risposte ai lavoratori che sono le uniche vere vittime dell'ennesimo scempio commesso dai privati, gente che ha fatto razzia anche dei fondi pubblici e che continua a imperversare scaricando poi sulla collettività i costi dei loro casini.